Siamo consci di quella che è la forza di Trento, ma non stiamo vivendo un momento magico. Se devo dire cosa mi preoccupa di più, sono i play-off a 6 di Champions League contro il Novo e il Cirque. Così Gino Circi, presidente della Silsafet Icona di Perugia, che giovedì sera al Pala Evangelisti, disputerà la prima gara della semifinale dei play-off scudetto contro la Diatec Trentino. In una intervista all'Agenzia Nazionale di Stampa Associata, Circi ha sottolineato comunque che la sfida con Trento non sarà facile. Conosciamo bene, ha detto, una squadra che si è piazzata a quarta in campionato. Diversa la situazione in Champions, la Cir approdata alla fase dei play-off a 6 dovrà affrontare Novo e il Cirque che è un terreno un po' sconosciuto, ha detto il presidente. L'ambiente bianconero appare comunque fiducioso dei propri mezzi anche grazie alle vittorie in Supercoppa e Coppa Italia. Viviamo un momento magico, ha detto, nel quale la differenza la fa anche il nostro meraviglioso pubblico. Bellissimi tifosi della Silsafet Icona di Perugia, buongiorno. Questa settimana inizieranno le semifinali scudetto 2018. Per noi potrebbe essere un momento storico. E questo momento storico, oltre al presidente e agli sponsor con le loro sponsorizzazioni, può essere scritto anche dai tifosi. I tifosi della Silsafet Icona di Perugia hanno stupito tutta Italia per il loro calore, la loro bellezza, la loro esaltazione dello sport e per il loro fair play. Adesso c'è bisogno ancora di più della vostra presenza per trainare e migliorare ancora questo bellissimo spettacolo che state facendo nelle nostre partite. Abbiamo bisogno di voi fin da domani sera, da giovedì sera. Perché? Perché il supporto dei tifosi è fondamentale per conseguire le vittorie. Ognuno di noi, ognuno di noi, dal presidente ai tifosi, può scrivere, può contribuire alla scrittura della storia, aiutando e spingendo la propria squadra alla vittoria. Quindi con un urlo e un tifo rabbioso vi aspetto tutti quanti, veramente tutti quanti, domani sera al Panevangelisti per scrivere la storia. RCD, RCD, RCD.